Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che rappresenterà un po' una svolta per quanto riguarda il tempo in Italia. Arrivano correnti fredde dal nord Europa, temperature che iniziano a calare in maniera sensibile al nord e soprattutto tornano anche acquazzoni e temporali. Vediamo la previsione della nuvolosità sull'Italia, ecco che arrivano nuove nuvole dapprima sulle regioni settentrionali in trasferimento però col passare delle ore anche all'Italia centrale a cominciare dal versante tirenico per il momento il sud rimane ancora escluso ma soprattutto diciamo arrivano anche precipitazioni sotto forma di acquazzoni e temporali dapprima sulle regioni settentrionali inizio giornata però poi vedete viene coinvolto anche il medio alto tireno e alla fine del giorno anche il medio adriatico. Solo a fine giornata ma ancor più giovedì il sud inizierà a vedere anche lui un cambiamento. Quindi in definitiva ci attendo un mercoledì con il ritorno di piogge diffuse anche intensi in alcuni casi al centro nord e tutto in sequenza dapprima sulle regioni settentrionali poi diciamo versante tirenico e poi adriatico dell'Italia centrale anche in Sardegna arrivano i primi acquazzoni e soprattutto temperature in netta diminuzione al nord e poi a fine giornata anche nell'Italia centrale ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi vista la situazione scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.